Ciao, sono caldo che stavo in macchina, è più bello del vivo, è più bello del vivo, sei bello anche così, sei bello anche così. Vai Matteo che uno su mille ce la fa, vediamo se ce la facciamo in mille stavolta. Sì, lo esaggiamo Matteo, non so che in mobilità, dove sei con mobilità? In Fiat, agende che lavorano per il gruppo Fiat che sono facilitate a mettere... Non vogliamo... Bravo, 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 bravo! Ciao, grazie! Buongiorno a tutti, ciao! Buongiorno a tutti, 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 buongiorno a tutti. Buongiorno è venuta a tutti, buongiorno a tutti. Eh, qui il programma. Un prodotto made in Italy, ti dico solo una cosa, ti dico solo una cosa. Il marchio Marazzi ha dovuto smettere di fare le piastrelle sue. Senza il made in Italy per... Ma deve essere vero! E il consumatore sta credendo! Ciao, piacere Matteo! Per fare questi ragazzi qua, cominciamo da lei che ha 19 anni, ci mettiamo 10 anni per arrivare a vedere lei, mi ha 26, ed è un peccato che non si voti, che non si voti nei prossimi Come si chiama lui? Ciao bello! Ma che si diceva che buone! Matteo! Ah ma non è caldo! Vieni a caldo! Meglio, insomma, mezzo no! Non c'è dei problemi!